amici benvenuti ciao ciao siamo sempre qui con con l'amico christian e oggi per voi presentiamo il torcicoda un primitivo di manduria dell'azienda torvaresca legata alla famiglia antinori per il pacchetto dolce vita questo buonissimo primitivo da 14 gradi un egiti pugliese pugliese molto bene andiamo subito a vederlo beh che rosso direi bellissimo rosso profondo con riflessi violacei inconsistente gira nel bicchiere che meraviglia queste noti dolci quasi al naso non ce lo sapete da un primitivo e questi fiori rossi quasi macerati quindi molto molto estratti poi anche anche della frutta ma la frutta un po particolare cosa ne dici direi che è rossa frutti rossi essiccati quasi una cosa particolare si leggermente speziato e siccome sono un amante lì lo riconosco cioccolato fondente qui c'è un profumo di cioccolato che ti invita a avere di quello che facciamo meraviglioso io direi è un vino davvero ruffiano piacevole secco caldo in bocca è equilibrato morbido è ottimo per sistemare senti quanto quanto lo si piace davvero si piacevole si ha delle notte in bocca addirittura di caffè ed è un vino pronto pronto da bere il caffè cioccolato è il massimo insomma io qui credo 14 16 gradi se siamo temperatura ambiente valida sicuramente primiti di struttura cosa ti voglio mangiare con questo con questo rosso o beh rimarre un po con ricordo della mia mamma tipo un cannellone quindi un bel primo di struttura oppure vini di rondine con un po di cervello attomico vini di rondine con un po di cervello se volessimo un secondo bel filetto ai porcini perfetto ho la collina in bocca amici di vini in vino ciao 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 ricarica la macchina che scarica la mano scarica ste la macchina che scarica 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 la macchina Grazie.